Un avanzo libero pari a oltre 860.000 euro per la prima volta dopo anni e un deciso cambio di passo sulle politiche del lavoro, con la realizzazione di tutti gli ambiziosi programmi previsti nel piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021. Questa è, in estrema sintesi, la fotografia del rendiconto di gestione 2019, approvato dal presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva, con proprio provvedimento. Un provvedimento che consenta alla provincia di Lecce, quindi, di essere tra le prime province ad approvare il consuntivo 2019, in principio rispetto al termine previsto del 30 giugno, come sottolineato dal consigliere delega al bilancio Nunzio dell'Abbate. Nello specifico, quindi, è stata certificata la stabilizzazione delle 12 unità lavorative che erano già oggetto di procedura di licenziamento l'8 marzo 2018, l'incremento da part-time a full-time di 8 rapporti di lavoro dei dipendenti, l'avviamento e la conclusione della procedura di progressione orizzontale per il 50% dei dipendenti, con l'ultimo avanzamento di carriera fermo al 2010, il rilancio di Alba Service, la riscossione di ingenti crediti dell'ente in odore di prescrizione, un incremento nel recupero TEFA dai comuni. Tale aumento, insieme con quello registrato all'IPT e RCA, ha compensato il crollo delle entrate da sanzioni al codice della strada.